Ciao a tutti, benvenuti qui Luca e benvenuti in questo benissimo contenuto multimediale Vi sto salutando con il mio amico DressyRegore360 Che è in questo momento con me Spiega che cosa è successo ieri con gli iscritti Allora, Luca aveva pubblicato uno short in cui chiedeva se il video li faceva col telefono o con la fotocamera Ha raggiunto 4.000 visualizzazioni e gli iscritti ora sono 68 Quindi sono più di 10 in un giorno Veramente ragazzi, grazie tantissimo Piccolo spoiler Ci sarà tra poco lo speciale dei 70 iscritti dove vedrete, oltre ad altri argomenti del video Vedrete il face reveal di DressyRegore360 Più nome e cognome di entrambi noi E più un altro LMG, un altro partecipante dei video Va bene, direi di iniziare Perché stiamo facendo questo video? Perché praticamente ho fatto creare un mondo Dove... Che ho pagato Comunque ho fatto creare questo mondo con questa casa pianoforte, ok? Che è molto molto bella Adesso andremo a fare la reazione di Dressy Scriveteci qua sotto nei commenti Inoltre Se volete una vanilla su questo mondo Perché secondo me questo mondo è molto bello e l'ho anche pagato tanto Dressy c'è la tua scritta che mi copre la faccia Va bene, comunque Andiamo Andiamo Oh No, fermo, 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 fermo Pronto? Scusami Pronto? 3, 2, 1 Via Andiamo Andiamo a scoprirla Bella Bella da fuori Allora da fuori è molto bella Da dentro è molto lussuosa C'è una stanza Che è la stanza più bella di tutta la casa Poi te la faccio vedere Ok Entriamo C'è questo meccanismo qua Tu ti chiederai Che cos'è questo meccanismo qua di blocchi di ferro Ecco Poi te lo faccio vedere Qui si apre In questo modo Entriamo Entriamo Poi puoi vedere i dressy Qui c'è subito Una specie di guardaroba Una stanza dove c'è scritto Armature d'emergenza Qui ce ne dobbiamo mettere Perché ovviamente Guarda che figo Guarda che figo Aiuto Ah bello Ok Ah ma il meccanismo che scambia le armature Sì bravo Ok Vieni qua Subito Vedi che c'è questa forma pianoforte Tutte le torce Le lanterne Tutte belle Qui c'è I letti d'emergenza Perché ti ricordo Secondo te ho messo questi letti d'emergenza Perché ci sono i mob fuori No perché c'è il rischio che li siamo bloccati dentro Veramente Cioè che non possiamo andare da nessuna parte Perché c'è un meccanismo di Di Cosa che Attiva Eh allora saliamo Saliamo sopra e non giù L'ascensore Saliamo sopra e non giù Non guardare giù Eeeh Potevi fare con il doppio ascensore Vabbè fa niente Ok perfetto Entra Esci Vabbè Qui c'è il pianerottolo Molto bello Che poi la notte Diventa molto Molto bello Con tutte le lanterne Qui si può salire sopra Nel punto più alto della casa Vieni qua Ok Qui puoi vedere il punto più alto della casa Si può vedere questo bellissimo paesaggio Lì c'è un trampolino Scendi giù E Vieni nel punto più basso della casa Non guardare Guarda il bianco mentre scendi Oddio santo Oddio santo Sali 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 Eh manna No io 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 sto soffoca Aiuto Muori 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 Perfetto Allora Adesso che abbiamo sofferto le pene dell'inferno Perché là Il creatore si era dimenticato Di mettere la luce Poi ce la mettiamo noi Adesso Andiamo a vedere La stanza più bella Di tutta la casa Ok Stati pronto Perché poi rimarrai a bocca aperta Ok Quindi Reggiti alla sedia Vieni c'è Metti le mani sul mouse e tastiere Con i gomiti Reggiti alla sedia Ok Vieni 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 qua Vieni Ragazzi Questo è il momento storico Mi sta venendo la lancre Lucia Vieni Rimani a testa Basta Rimani a testa Basta Rimani a testa Basta Bravo Bravo Entra qua Entra qua Entra 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 No non morire Non morire Non mi lasciare Sei giovane Non morire Ok perfetto Allora È come un po' di pregato Ok perfetto Metti la visualità cinema Pronto 3 2 1 Guarda la magnificenza Di questa camera Guarda qua Guardala Che bella è Che bella è Io veramente Bellissima Veramente Cioè Qua ci sono i letti I letti normali Ok Vedi qua Sono tutto pieno di banner Qua c'è una Cosa che mi simboleggia Le casse Quelle Che contengono le cose Le robe Tutto a posto Qua non c'è niente Puoi vedere che non c'è Assolutamente nulla Queste sono le nostre casse Questa Come vedi È la tua parte E questa è la mia parte Perché c'è il nero E il verde Veramente È molto molto bello Tra l'altro Un piccolo segreto Di questa vanilla Ci sono dei Blocchi invisibili Delle barriere Perché non voglio Assolutamente Che si rompa Anche se è un backup Non voglio assolutamente Che si rompa Perché poi Cioè Non voglio che si rompa Allora andiamo su Andiamo su Io li posso levare Sì posso levare Aia No Ancora sto scherzo No 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 Perché si è levata Perché Adesso te lo dico Perché si è levata l'acqua Fatti ammazzare Fatti ammazzare No non posso più entrare Ecco Il meccanismo Questo ti dicevo C'è un meccanismo Che Praticamente Imperisce sia l'entrata Sia l'uscita Mi sa che è meglio Che Ecco bravo Che ti disconnetti dal gioco Così posso dormire E si toglie sto meccanismo Praticamente questo meccanismo Toglie l'acqua All'ascensore E non Non permette Nell'entrata Nell'uscita Di tutti Esci dal gioco Per favore Che se no Scusa Ok perfetto Qui c'è un albero diverso dagli altri Dove Qui C'è Un'altra casa Una casa Semplicissima Molto semplice Aspetta Non riesco a scendere Ok così Una casa semplicissima Molto molto semplice Non c'è nulla Neanche qua E' tutto nuovo Ecco Sì Io adesso mi devo incavolare Con il creatore di questo mondo Cioè guarda qua Guarda che ha combinato il creatore Io l'ho pure pagato Scriveteci nei commenti Secondo voi Quanto ho pagato Questo mondo Perché ho pagato Questo mondo Non è che l'ho fatto Costruire gratuitamente C'è un C'è un piccolo problema Come usciamo Perfetto ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Iscrivetevi Mettete like Lo so Non si chiedono I like Iscrivetevi Mettete like Attivate la campanellina E scrivete anche un commento Per farmi felici Così almeno Mi fate La cortesia Di farmi capire Se volete Una vanilla Su questo mondo La prima serie Definitiva Definitiva Bravo Ed io vi saluto Luke saluta Dressi vi saluta Ciao Ciao ragazzi Ecco ora ammazza Mi vai che c'ho tre cuori Bravo Ammazza Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao